In questo caso io devo entrare nell'argomento perché il film che abbiamo visto la settimana scorsa era in contemporanea con il passaggio a Cannes, non ve ne abbiamo potuto parlare in anteprima perché letteralmente siamo usciti di qua e siamo andati a vederlo la settimana ma Furiosa ha diviso il tavolo, la trasmissione Aspetta, non è vero però scusami perché ha diviso il tavolo? Prego Di cosa stiamo parlando? Di cosa parliamo? Stiamo parlando del nuovo capitolo della saga di Mad Max è vero che si intitola Furiosa a Mad Max Saga film di quest'anno diretto da George Miller la saga è, anzi qui lo definisce il franchise di Mad Max che arriva nella sua versione primigenia dagli anni 70-80 quindi il primo è Interceptor del 79 poi c'è stato Interceptor il guerriero della strada dell'81 Mad Max oltre alla sfera del tuono dell'85 e poi siamo arrivati ai tempi diciamo nostri era il 2015, quindi già un po' di tempo fa quando uscì Mad Max Fury Road una bomba di film ricordo Flavia Saltellante all'uscita del film sembrava un canguro era un film pazzesco complice anche il fatto che la protagonista femminile fosse vai, vai, vai e tu hai la tua ce l'ho davanti è la tua preferita è la tua preferita Charlize Theron ok e c'era anche Tom Hardy che francamente avevo un po' rimosso perché mi ricordavo solo Charlize Theron ma insomma a prescindere da questo quello completamente bianco albino sì, sì, ok era Nicola Salt Nicola Salt, quello me lo ricordavo no, non è vero quando l'ho visto me lo sono ricordato comunque qual è questa saga? siamo in un mondo post-apocalittico dove c'è stata una catastrofe nucleare non c'è più praticamente quasi la natura e le persone devono è un po' tipo Gary il guerriero cioè le persone devono sopravvivere è proprio esattamente come Gary il guerriero chissà qual è il collegamento c'è un collegamento maggiore di sì comunque il fatto sta che il mondo gli esseri umani devono sopravvivere contro questa natura praticamente ostile cioè il fatto che ci sia pochissima acqua che non ci siano che sia molto difficile procurarsi del cibo della benzina e questo ovviamente polarizza gli esseri umani che diventano molto cattivi e cercano di accentrare il più possibile il potere nelle proprie mani per poter gestire le poche risorse nella fantascienza questo è una fantascienza sì esatto non succede nella realtà ovviamente con questa cornice ci sono poi dei personaggi dei personaggi diciamo più specificamente cattivi dei personaggi più sfumati nelle loro dimostrazioni il fatto sta che anche quelli più buoni comunque devono scendere a patti col fatto che il mondo è un mondo violento e quindi devono anche diciamo commettere della violenza essere a loro volta violenti però magari per scopi più giusti ecco cosa succede con Furiosa? siamo in un prequel sì siamo prima del primo film perché si parla prima del primo addirittura no 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 è vero prima del film precedente prima di Fury Road perché si racconta la storia proprio di Furiosa esatto la storia è quella di Furiosa che è questa protagonista femminile interpretata appunto nel film Mad Max Fury Road da Charlize Theron in questo caso la vediamo dalla sua infanzia a diciamo una sorta di giovane età giovane adultità interpretata da Alila Brownie molto brava la bambina molto brava prima questa qui e Alila Brownie probabilmente e poi Enia Taylor Joy che la fa da più grande sì cosa possiamo dire? allora la storia appunto è quella di questa Furiosa che proviene da un mondo in cui c'è ancora qualcosa anche dal punto di vista proprio della natura anche in un territorio e viene strappata da questo mondo e finisce appunto in questa grande bolgia di violenza dove fondamentalmente ci sono solo uomini o quasi perché il punto è questo cioè che ci sono quasi tutti uomini che accentrano il proprio potere ovviamente tra le conseguenze dell'apocalisse c'è anche il fatto che è molto difficile riprodursi e generare dei bambini e delle bambine sani e quindi le poche donne che ci sono sono un po' relegate un po' tipo nel racconto dell'ancella al cercare di procreare in maniera sana in questo film in realtà è proprio una cosa che viene appena accennata nell'altro film precedente ma temporalmente successivo invece queste donne da preservare hanno un ruolo molto più forte anche un po' diciamo curate dalla stessa Furiosa protette dalla stessa Furiosa quindi qua vediamo un po' solo un accenno di quello che sarà poi il futuro Furiosa appunto quello che fa è diciamo far sedimentare dentro di sé un rancore gigantesco questo è un po' il senso di tutto che la porta ad essere un personaggio quasi muto che parla veramente pochissimo proprio perché guidata un po' da questo da questo odio da questa sempre grandissima tristezza un po' tipo che nel guerriere devo continuare a ripetere per dei traumi un trauma grandissimo subito ma poi anche tutta un'altra serie di cose che succedono nella sua vita quelle poche volte che prova ad aprirsi ad un sentimento poi la cosa finisce appunto a tragedia perché questo è un film in cui i sentimenti non sono permessi è un mondo in cui i sentimenti non sono permessi questo è un po' il senso cioè tu non ti puoi affezionare perché la morte è talmente tanto presente che è un attimo che ti scompaiono i pochi affetti che hai la storia è questa cosa ci convince cosa meno allora sicuramente almeno parlo per me l'atmosfera è sempre estremamente affascinante sia per come è resa le scene d'azione che sono praticamente il 98,5% del film grazie a Dio ci tengo a dire perché è giusto che sia così è un film di azione è un film dove ci sono queste macchine costruite da resti di macchine questi esseri umani costruiti da resti di pezzi di macchine c'è questa estetica molto cruda molto sanguinolenta molto piagata appunto da questa da questo effetto nucleare insomma che fa sì che le persone sono tutte un po' storpie un po' questa è comunque una cosa l'ho detta male ma sicuramente una cosa molto affascinante almeno per quanto mi riguarda perché comunque amo il genere amo la distopia amo questi universi ricostruiti cosa non mi ha convinto l'ho trovato francamente ci sono delle parti che forse avrei tolto cioè l'avrei accorciato un po' perché è un film in cui l'altro credo che ci siano se dovessimo segnare le pagine di dialogo saranno 20 forse a dire tanto che non è necessariamente un male perché è chiaro che tu vuoi parlare tramite le immagini vuoi parlare tramite le espressioni allora partiamo dal fatto che non so se sono convintissima Daniel Taylor Joy ok l'ho trovata è vero che lei deve essere fredda è vero che lei deve essere un po' monoespressiva però forse è too much troppo fissa l'ho trovata un po' troppo fissa in questa cosa interessante Chris Hemsworth che probabilmente qui fa la performance per ora della vita della vita perché calca in un personaggio di cattivo folle il genere cattivo matto Joker che tu non ti sì ovviamente non con gli stessi risultati di di chi Joaquin Phoenix o Jack Nicholson no però diciamo che comunque più di quanto ti aspetteresti da Chris Hemsworth almeno per quanto mi riguarda quindi ci può stare ci può stare lui interpreta Dementus Dementus che già insomma racconta un po' del personaggio è un film che forse perché mi aspettavo una proprio di essere colpita in pieno viso con molta più forza invece mi ha lasciata un po' tiepida allora intanto c'è un problema innanzitutto si è scaricata la mia telecamera ma questo poco importa il film è stato al momento visto da 99.524 persone ma vorrei far strappare completamente la regola dicendo che vi porto la mia esperienza perché io mi sono addormentato in sala ok vabbè questo forse numaccio questo sì anche chi se ne frega vi sento nel senso che non è proprio un film da sonno non è proprio un film da sonno però io mi sono addormentato ero stanco boh forse però appunto la parte che Flavia diceva si poteva accorciare io effettivamente l'ho accorciata perché mi è caduta la palpebra e quindi io sono apertissimo a ricevere tutte le le critiche costruttive specialmente dopo aver visto il film e non dopo essersi fermati al titolo della recensione però effettivamente bisogna registrare il fatto che Mad Mad Fury Road non permetteva questa reazione in assoluto era proprio impossibile era forse anche stato progettato montato scritto diretto colorato musicato sempre da quel folle di junkie excel che sta sotto la nostra voce qui in maniera moderata ma poi sentirete ritorna anche il chitarrista folle che lancia il fuoco dalla paletta poco però secondo me tutto un po' poco esatto tutto un po' forse perché nel precedente era tutto tantissimo è brutto fare confronti però ho avuto cioè mentre ero stata travolta dal film precedente questo mi ha lasciata invece più tiepida forse perché avevo delle aspettative magari un po' alte e quindi questo è sicuramente un errore di chi entra in sala con la consapevolezza cioè con il preconcetto con i pregiudizi ma se c'è scritto a Mad Max saga devi anche pensare a tutto quello che hai visto quindi anche dobbiamo devo fare pure io ammenda o comunque rimodulare i giudizi perché la saga non inizia da Fury Road ma da Interceptor era nel 79 erano sempre a George Miller che nel tempo è anche cresciuto e quindi questa potenza prodotti anche parecchio sì sì di età quasi 80 più di 80 ma soprattutto è cresciuto come persona è cresciuto come artista è cresciuto come anche importanza produttiva e quindi anche come libertà di creazione la libertà presa anzi vista e vissuta durante questo Furiosa è tale da apprezzare moltissimo gli spazi che sono stati lasciati a George Miller letteralmente le praterie di creatività e quindi appunto la creatività impiegata nel creare lo scenario creare gli spazi è tutto nell'estetica è tutto nell'estetica che in questo caso funziona e va bene che sia così diciamo forse un po' la trama diventa un accessorio rispetto a questo nel senso che uno si concentra sul vedere che vette può raggiungere la desolazione di un mondo e che vette può raggiungere anche la cattiveria umana e credo che questo sia un po' il senso di questo film di questa saga anche un po' riflettere a cosa spinge l'essere in un contesto estremo cioè come diventano gli uomini e le donne in un contesto estremo come cambiano le relazioni chi prende il potere come viene gestito il potere sono tutte cose che sicuramente tutte riflessioni che un film del genere porta a fare senza dubbio e questo funziona o funziona proprio di per sé nel film nell'idea stessa del film poi ecco ci sono io in questo caso veramente ho trovato un po' di piattezza nella 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 storia non so nel gestire la storia però magari proprio nel testo nel cosa devono fare le persone anche per dire il personaggio di c'è un personaggio che a un certo punto diventa importante per Furiosa ma figuriamoci se nella mia mente è morta giù no ah no 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 che tra l'altro è lo stesso di tutti i film per i Tori e i Jack per i Tori e i Jack interpretato da Tom Bark anche qui ah questo anche qui è un personaggio che sicuramente deve essere un po' come Furiosa senza cioè non deve dimostrare le emozioni perché il senso è che se tu dimostri le emozioni sei debole quindi in questo film in questa saga in questo universo chi è chi dimostra le proprie emozioni chi fa capire a chi sta tenendo a chi vuole bene chiaramente spassa dalla parte del debole ed è passibile di vendette è passibile di violenza quindi bisogna sempre cercare di rimanere però forse in questo caso troppo sembra cioè sono un po' po' fissi però vabbè visto che appunto è mio dovere oltre a dire appunto che mi sono addormentato e quindi rendere anche utile questa esperienza vi consiglio se cadrete anche voi nella stessa trappola in cui sono caduto io venendo furiosa e volete qualcosa di più anche come con la stessa la stessa storia piuttosto scarna ma con ritmi e anche guarda sono ben assimilabili i due film anzi i tre film perché vi consiglio la produzione recente di Lady Lee esattamente con I Miserabili del 2019 e con Atena del 2022 facendo anche sono anche reperibili Atena se non sbaglio è un film Netflix quindi se potete guardatelo con lo schermo è l'impianto stereo più ampio possibili ma comunque sia I Miserabili che Atena ci porta a Parigi esattamente dentro e fuori le banlieue ma il livello di cinematica di movimento di azione anche di racconto perché pure qui siamo nel canovaccio del western dove i personaggi non sono proprio profondi come il mare ma hanno tutti delle caratteristiche anche addosso anche la vestizione o la rasatura di Furiosa racconta un motivo è sicuramente molto chiaro è anche ben fatto e appunto dobbiamo inserire questo film Furiosa in quell'angolo della cineteca però appunto se volete ritmo anche azione creazione di movimenti scenici creazione di scenari idee le troverete sì in Furiosa in livello per quanto mi riguarda minore ma in Atena sicuramente in I Miserabili sempre di Lady Lee in maniera molto più godibile e soprattutto divertente e più che divertente interessante io qui in Furiosa ho trovato meno interesse perché risentivo storie che avevo sentito nell'altro film e che forse o non dovevo vedere o non dovevo ricordare così bene oppure dovevo pensarlo come all'interno di un corpus più organico e quindi il confronto è sbagliato farlo fatto sta che il sonnellino non so neanche di quanti minuti però non mi sono perso nulla cioè riesco a sono riuscito a riacchiappare tutto la trama e quindi dobbiamo registrare anche questa semplicità quindi Flavia che che voto daresti a Furiosa è Mad Max saga tra l'altro appunto presentato fuori concorso a Cannes dai sette sette io invece in quinti io ho dato cinque ho dato tre stelline tre e mezzo dai ok va bene quindi più di tanto non ci siamo discostati quindi appunto più di tanto anche con il sonnellino e mezzo la differenza non c'è stata andiamo avanti in musica con le slate bells con Riot Rhymes che non c'è Grazie.